benvenuti e benvenute sono greenbanship e siamo al settimo episodio di jack and g il 3d ultimo episodio della serie proprio così con il con l'episodio di oggi termineremo anche questa avventura allora attenzione devi girare nel ponte che c'è davanti va benissimo non ho niente in contrario giriamo e troviamo un pulsante il ponte si gira va benissimo ok abbiamo scoperto una cosa nuova e dunque dobbiamo fare il giro in tondo per trovare questo secondo bottone ok si è girato il ponte va bene allora adesso dobbiamo ritornare sui nostri passi e proseguire ebbene vi dirò che è stata un'avventura anche quella che ci è stata proposta con questo videogame videogame che non è assolutamente facile come può sembrare anzi contiene degli elementi di difficoltà che lo rendono sicuramente non banale e al tempo stesso mai noioso perché un gioco troppo facile non da nemmeno soddisfazione poi alla fine invece noi lo stiamo portando a termine in modo secondo me egregio allora dobbiamo tornare indietro anche qui ok stavo riflettendo un attimino quanti livelli abbiamo superato allora ci sono 20 livelli per ogni mondo e i mondi da completare sono tre quindi ci sono una sessantina di livelli in tutto che è una longevità giusta direi la grafica del gioco a me è piaciuta tantissimo sarà che ho sempre visto mi sono sempre immaginato un po jack e gill come due budini ve lo dicevo anche quando giocavo con la versione in bidimensioni del gioco mi sono subito sembrati dei budini e qui e qui devo dire che l'aspetto grafico in 3d ha confermato la mia tesi poi ovviamente rohan narang lo sviluppatore ci aveva spiegato già nella prima serie o meglio vi avevo raccontato quanto mi aveva detto lui ovvero che jack e gill non sono sono dei personaggi liberamente interpretabili cioè se tu vuoi che siano dei budini possono essere dei budini secondo me assomigliano dei budini ma nel senso spiritoso del termine non voglio sminuire i personaggi ci mancherebbe altro la musica nulla da dire è una buonissima colonna sonora migliore della serie 2d sono stati introdotti anche degli elementi nuovi ad esempio i ponti girevoli piuttosto che i nemici fantasma oppure i nemici che ti lanciano addosso le palline melmose che non vogliono nemmeno sapere cosa sono di che cosa si tratti e insomma 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 possiamo posso dire dai è stato è un bel gioco veramente l'ho apprezzato tanto però lo dobbiamo portare a termine allora intanto terminiamo questo livello e così jack e gill si sono incontrati di nuovo ok mondo 3 livello 17 siamo sul conto alla rovescia ormai perché con l'episodio di oggi completeremo gli ultimi 5 livelli uno è già andato ne mancano 4 questo compreso allora dobbiamo fare cosa e devo ritornare anche questa volta sui miei passi ecco la cosa abbastanza difficile abbastanza difficile nulla che non possa essere risolto magari dopo uno o due tentativi però insomma un elemento di difficoltà è dato dal fatto che bisogna riuscire a trovare la strada perché ci sono più vie che possono essere percorse in più sensi di marcia perché a volte facciamo correre gill verso sinistra altre volte verso destra però insomma un elemento di difficoltà sicuramente è quello di riuscire a trovare la strada giusta da percorrere e ci sta perché alla fine si è in una specie di labirinto barra rebus e bisogna trovare la direzione giusta ok allora abbiamo anche un checkpoint anche qui vedete poi premendo i pulsanti si muove il ponte e quindi si apre una nuova via ok ok era jack credo di averlo intravisto anche se solo per un momento saltiamo il fantasmino per fortuna lo abbiamo evitato oh bene bene una pozione con questa siamo al sicuro guardate tiro dritto non sto neanche lì tanto a evitarli perché tutta fatica sprecata qui possiamo proseguire tranquillamente anche se ci colpiscono i nemici non ci fanno nulla come avevamo scoperto già qualche video fa ed ecco jack perfetto anche il livello 17 del terzo mondo è concluso benissimo allora non so se ho fatto bene a saltare quell'ostacolo sì 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 ho fatto bene ho fatto bene ho trovato un pulsante quindi ho fatto benissimo allora adesso andiamo da questa parte no ragazzi credo di essermi perso però no 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 ok abbiamo trovato una scarpetta e quindi siamo sulla strada giusta sì abbiamo trovato anche un altro pulsante che ha fatto tiradare il fumo quindi siamo sulla strada non giusta giustissimo cioè vedete magari può capitare che si debba fare un giro in tondo in più però alla fine la strada la troviamo e anche il checkpoint quindi si può giocare tranquillamente bene allora ero tentato di saltare ma non saremmo arrivati qui dove mi trovo ora salta 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 lì c'è un pulsante dobbiamo raggiungerlo beh intanto abbiamo rallentato e che non è male allora lì ce n'è un altro ora quello di prima no sono due due pulsanti ci sono lì sotto allora premiamo prima questo e uno ok si è girato il ponte adesso dobbiamo girarci di nuovo bene e troviamo un modo per premere anche il secondo allora però dobbiamo ecco ecco perfetto perfetto abbiamo risolto il problema ora sempre dritto e anche questo pulsante è andato ok c'è diradato il fumo wow una spirale e la sopra c'è jack benissimo bene bene ragazzi mancano solamente due livelli due livelli e abbiamo concluso il gioco mamma mia avevo paura che ci avrebbe colpito ok allora adesso seguiamo il ponte probabilmente dovremmo ritornare indietro in qualche modo da quel punto perché c'era un tappeto con la scritta slow quindi dobbiamo tornare in quel punto credo vedete che c'è il tappeto con la scritta slow credo che girovagando per questo labirinto alla fine ci ritroveremo a passare da quel punto io non so cosa sto facendo ma intanto lo faccio eccolo lì vedete e siamo tornati da questa parte perfetto abbiamo preso un'altra scarpetta e abbiamo trovato anche un nuovo pulsante là sotto c'è un altro checkpoint quindi dobbiamo andare verso il basso per capirci in questa direzione ok io pensavo che quello sarebbe stato un vicolo cieco invece c'era un pulsante per fortuna sì però devo tornare ecco perfetto come ho fatto a saltare questo punto non lo so ma l'ho fatto due volte e quindi significa che era possibile era effettivamente possibile bene bene qui ci sono già stato ok perfetto va benissimo va benissimo adesso qui piano perché non abbiamo la pozione bisogna stare attenti fermati fermati va bene allora dovremmo essere a buon punto credo parlo per questo livello ormai abbiamo già superato diversi checkpoint eccolo lì Jack eccolo lì ok adesso facciamo il giro tondo e andiamo da lui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Pulsante è tutto l'episodio che premiamo pulsanti ragazzi. Oggi ne abbiamo trovati veramente un bel po'. Pulsante è tutto l'episodio. Dai, che siamo all'ultimo livello. C'era il nemico nascosto dietro il lampione. Non l'ho visto subito. Non l'ho visto subito. Giuro. Era nascosto. Cavoli, stiamo svelando un'area dopo l'altra, siamo bravissimi. Giuro. 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 Andate a fare un giretto e venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook con la pagina Facebook e l'account Twitter e da poco anche Instagram. Trovate il link in descrizione. Trovate anche i link di Rohan Narang. Andate a fare un giretto anche sui suoi social e sul suo canale. e a me non resta che salutarvi, ci vediamo più avanti con un nuovo video e una nuova serie. Ciao a tutti.